Mr. Strano, una partita equilibrata dove però la meglio l'ha avuto la Mazzarese e il suo puntovidista tecnico sulla sua squadra? Sì, equilibrata contro una squadra tecnica ben messa in campo, però se devo guardare quello che ha detto il campo io non ho subito nemmeno un tiro in porta, ho tirato 5-6 volte e ce ne andiamo via senza nemmeno un punto. Adesso come si mette per voi la classifica, le ultime due giornate e i recuperi che andrete a fare? Noi ne dobbiamo fare 4 di partite, non ci siamo riusciti oggi a vincere, proveremo a vincere le altre e poi alla fine tireremo le somme.